Utilizzano una gru da cantiere come Ariete per scardinare le colonnine di carburante in una stazione di servizio a Tiene e rubare la cassa automatica. Un copione che pare si stia ripetendo molto spesso ultimamente. Malviventi in azione sabato sera in via dell'autostrada, danni ingenti alla struttura, come si può vedere dalle immagini. Sul posto i vigili del fuoco intervenuti dal locale di staccamento dei volontari e da schio per le operazioni di messa in sicurezza. La gru a causa del colpo violento ha subito danni al circuito idraulico perdendo molto olio nel piazzale. Ci sono volute ore per sistemare tutto ed evitare eventuali focolai. Ancora da quantificare il bottino sul posto i carabinieri di Tiene per cercare di risalire agli autori che pare siano gli stessi che poco prima avevano compiuto un simile colpo sempre in un'altra stazione di servizio a Campiglia dei Berici. Saranno fondamentali le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dei distributori. Grazie.